Buon vento a tutti gli amici della Sicilia Virtual e benvenuti a questa nuova video recensione all'interno del nostro magazine online. Ci troviamo a bordo del nostro Cessna C172 e percorriamo la taxiway dell'aeroporto internazionale di Benjul della Repubblica del Gambia, quindi ci troviamo in Africa. Grand Island Simulation ripropone questo aeroporto che si trova nel cuore di una delle destinazioni più popolari fra sole e mare del continente africano. Nel maggio 2018 l'aeroporto servirà ai primi voli dai per l'isola di Sant'Elena e fungerà da scalo intermedio per il servizio settimanale della compagnia Atlantic Airline con destinazione Londra. La Grand Island Simulation ricrea quindi questa popolosa destinazione di volo caratterizzata da immagini a terra di 50 cm per pixel, poligoni di terra nativi per Prepar3DV4, scelta di luci dinamiche o statiche, texture stagionali del terreno, estate e inverno e trame del terreno opzionali per abbinarsi ad Orbix Global Base. Tutto questo splendidamente riprodotto all'interno dell'aeroporto internazionale di Benjul. L'aeroporto internazionale di Benjul è stato selezionato dalla NASA come pista di atterraggio alternativa in caso di emergenza per lo Space Shuttle. L'aeroporto internazionale di Benjul. L'aeroporto internazionale di Benjul. Grazie per la visione!